Benvenuti a tutti, sono Arca di Namare, è martedì mattina e quindi le Arca News inevitabili, inesorabili, perché ci vogliono. Voglio sapere chi ha incassato in questo weekend, in quello scorso in realtà nel mondo e in Italia, ve lo dico io, con altre due notizie interessanti e una un po' trollata, che però fa ridere. Ci facciamo due risate, dai, con Frank. Visto che oggi a Cinefolli abbiamo parlato di Will Smith, c'è una notizia su Will Smith che mi ha fatto morire per ridere, quindi la commentiamo molto, molto velocemente. E poi Cinefranc, senza volerlo, sempre in Cinefolli, che è il suo format su Cinefranc, mi ha anticipato con una domanda che farò a te e al pubblico, che riguarda Furiosa, no? La domanda che poi tu hai fatto a Cinefolli, ecco, essenzialmente questo, che si lega con gli incassi. Quindi, intanto, saluto a Frank, come va? Ciao, 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 tutto bene? Spero che non siano altri schiaffi noccioline, spero che non... Non ho pranzato, spero che non siano altri schiaffi che volano per Will Smith. Spero che ne abbiamo avuto abbastanza. No, 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 basta, basta. Quindi, quindi, seguiteci, Arcadin Hammer, Cinefranc, Valinor, abbiamo un sacco di cose insieme, facciamo robe, quindi seguiteci, mi raccomando. E incominciamo subito con il box office, perché non ho messo il banner basso, perché sono stronzo, eh, giustamente. Banner basso che ci dice, box office USA. Com'è andata? Chi ha guadagnato? Anche al di fuori della classifica, non solo i primi cinque. Vi leggo prima i titoli, con gli incassi e dopo. Perché non l'ho fatta questa cosa, vabbè, ma so pessimo. Non importa, mentre parlo, correggerò. Quinto posto per il pianeta delle scimmie, che, con un budget di 160 milioni, ne incassa 360. Quindi, zitto, zitto, due volte e mezzo, quasi. Quindi il flop che sembrava clamoroso, in realtà non è così clamoroso. La Disney non può festeggiare. Se il budget fosse stato 100 milioni, 110, sarebbe già rientrato. A questo invece, 160, 360. Meglio di quanto mi aspettassi. Quarto posto per The Watchers. Finché abbiamo visto sia io che Cina Frank, recensioni sul canale, anche del pianeta delle scimmie, ovviamente. Recensioni sul canale. No, vi dico che ieri ho messo online l'analisi scena per scena del primo pianeta delle scimmie del 68. Andate a recuperarlo perché è molto interessante. Quindi The Watchers, quarta posizione. Budget non è chiaro. Fra gli 8 e i 12 milioni e i 13, comunque non importa, perché ha già incassato 12. Quindi si suppone che abbia già recuperato il budget di base. Terzo posto per If, che nonostante sia un flop, sta un po' recuperando, ma grave. 110 milioni di budget, 160.5 in tutto il mondo, chiaramente, non solo in America. Secondo posto Garfield, The Movie, che è arrivato al triplo. Non me lo sarei mai aspettato così velocemente perché era già uscito in tanti paesi nel mondo. 60 milioni e 193 di incasso. Quindi stanno festeggiando. Primo posto Bad Boys ride or die. 100 milioni di budget, 104.5 di incasso. Quindi stanno festeggiando già la prima settimana. Sono numeri interessanti, secondo me. Cine Frank, che cosa mi dici? Che Bad Boys se lo merita. Io sono l'insider, dato che ho già visto il film. A me è piaciuto molto. Mi ha fatto divertire, è piaciuto anche a mia moglie. Mia moglie è una critica molto più severa di me. Mi ha piaciuto e mi ha fatto divertire anche lei. È un film super intrattenente, non va a aspettare il capolavoro. Però questa è la dimostrazione, signor Arcadine, che il passaparola funziona. Perché sta aumentando i quell'anni giorno dopo giorno. Questo ci fa capire, ovviamente, c'è stato il weekend, però ci fa capire che il passaparola sta funzionando e le persone stanno andando al cinema. Ragazzi, primo weekend ha già equiparato il budget. Allucinante. The Fall Guy ce l'ha fatta, se non sbaglio, ma dopo un mese? Un mese. Dopo un mese ce l'ha fatta. Quest'altro qui, ne parliamo di Furiosa, che sta facendo schifo al cesso pure lui. Sì, ma dopo ne parliamo. Ecco, a me non sono piaciuti nessuno dei due. Nel Furioso o del Fall Guy. Il Fall Guy è leggermente. Il Furioso mi è proprio piaciuto. Ma il Boyce mi è piaciuto. E non è piaciuto solo a me. Se andiamo a uno sguardo all'80 metros, sarà 90% il pubblico. 90%! Ma vi dice qualcosa? Sì, sì, c'è uno youtuber americano che seguo, che ne ha parlato bene, ha detto no, è simpatico. Nessuno ha detto che è un capolavoro, però per quanto mi riguarda è uno dei film più intrattenenti che ho visto negli ultimi tempi. E questo è importante, signor Harker, per portare le persone al cinema, giusto George Miller? Giusto George Miller? Perché la gente deve dire, andiamo a rivederlo, guarda ti porto, perché è un film che rivedrei due volte, tre volte. Io lo rivedrei questo film, lo rivedrei magari doppiato in italiano, per capire la differenza. Lo rivedrei con piacere. Il resto, Garfield sta sempre là. Mamma mia, Garfield, Garfieldone ha fatto il botto. Eve non arriverà manco a per due, quindi possiamo dire anche quello è abbastanza un fallimento, per quanto comunque sia andato abbastanza bene. The Watchers è il giocattolino con cui la ragazza ha esurdito, ma è un film derivativo del padre e di altri film, insomma, non ne ho parlato, è una recensione. Io non mi ricordo gli ultimi film di Shalaman e quanto hanno fatto, però se non sbaglio l'ultimo, quello dove i tizi di chiuso in casa aveva fatto il triplo. Ma è costato 8 milioni. Ma la bravura di Shalaman, anche in questo caso, è una singola location alla fine. Cioè, è un po' nel finale. Il grosso è una singola location, nel finale giustamente ci sono più location, ma il grosso è una singola location. Shalaman è bravo, è bravo a gestire il tutto con economicità. Raga, lui continuerà a fare film rispetto invece ad altri registi che vogliono fare i film da 100 milioni di dollari perché si credono di essere i migliori al mondo e poi fanno la fine del Qua Qua Qua. King of the Planet, io ripeto, non l'ho ancora visto perché non mi attira per nulla, probabilmente rivedrò tutta la saga quando uscirà il prossimo capitolo. A me non mi piace, quella saga a me non mi piace, ci posso fare niente. Però non ha fatto, ecco, 160 milioni di dollari, vabbè, là è tutta computer grafica. non ha raggiunto nemmeno il per tre. Ha raggiunto il doppio, sì. È più il doppio più qualcos'altro. Secondo me può arrivare al massimo a 370, 680. Ora. Perché è da un po' che è in giro. Vogliamo dalla colpa al botteghino estivo? No, no, ma dopo ne parliamo. C'è una domanda proprio su questo. Andiamo fuori dalla classifica, ma non mi soffermo tanto su Furiosa perché c'è una domanda in proposito. Furiosa è sesto, con 145 milioni con budget di 160. Vergognoso. Poi c'è la The Lord of the Rings, The Two Towers in America, pre-release, io te lo dico. Strangers che guadagna poco, ma guadagna, quindi è quattro volte il budget. È una cagata, ho già visto. Allora, immagino sia una location sola, solite. Cagata, proprio proprio cagata, proprio brutta, cioè è una cagata pure per essere uno slasher. Ok, perfetto, ottimo. In realtà è uscito anche la re-release della compagnia dell'anello, io lo dico a Frank. The Fall Guy, ridendo e scherzando, è a 165 milioni, quindi era 110 mi pare il budget iniziale, e quindi comunque un pochino si sta difendendo, ma ormai ha finito, ha finito, essenzialmente. Faccio delle previsioni, dai, molto velocemente. Per me Garfield si ferma a 210, Bad Boys io dico 550, perché per me questa ha la coda lunga, perché non ci sono così tanti titoli poi davvero rilevanti. Quindi 500 milioni, 550, secondo me lì fa. If si ferma a 180, The Watchers può fare i suoi 30 milioni e possono stare contenti. E il regno del pianeta delle scimmie, al massimo 380, che sarebbe comunque un successo nelle prossime due, tre settimane. Sì, previsioni le faccio pure io, Bad Boys, secondo me, un mese sta a 500. Secondo me ce la può fare per arrivare a 600 o 700 addirittura. Secondo me ce la può fare. Cioè, io ho delle ottime vibes su questo film. Ma perché, io non credo perché esce... Il passaparola, Arca, perché... No, il passaparola... Dead Wolverine. Sì, ma esce a fine luglio Dead Wolverine. Esce a fine luglio. Inside Out però esce prima. Ma Inside Out è per i bambini, questo è per gli adulti. Allora, il passaparola farà un grande lavoro. Ce ne renderemo conto la settimana prossima. Lunedì prossimo ce ne renderemo conto. Sì, sì. Quindi, vedremo chi ha ragione fra me e Frank. Io dico 500, 550. Frank se è 50, anche 700. Va bene. In Italia abbiamo... Eh, qua è bello, eh. Me contro te, Operazione Spie. Si gode, si gode tantissimo con un milione e otto che governa la classifica. Il signor S, stanno andando bene. Due settimane in fila. Secondo, Kind of Kindness, che però è incassato poco. 389 mila euro. E niente. The Watchers, 237 mila euro. E terzo. If, un milione e otto in totale. E Furiosa, un milione e cinque. Ma è già quinto. Sono passate tre settimane, è già quinto. Ma come? Il grande film di Miller di cui dopo parleremo? È quinto, pure qui. In Italia che è una... Siamo due gatti. Vabbè. Sesto, Esorcismo Ultimo Atto. Che fa benino. Settimo, Hotspot, Amore Senza Rete, recensione sul canale che davvero rimpiango, moccia con scamarcio di... Te metti sopra il cielo. Grosso rimpianto. Poi, Otto, la stanza degli omicidi che ho visto. Che è carino però. Vabbè. E niente. Decimo, il regno del pianeta delle scimmie. Frank. Qua voglio... Vabbè, verrà scalzato tra qualche giorno dai ragazzi cattivi. Ragazzi cattivi. Ragazzi cattivi, grande titolo in lingua italiana. Verrà scalzato, la classifica la dominerà ai ragazzi cattivi, io credo, per almeno un mese in Italia. Perché è un film abbastanza atteso. Quindi Me Contro Tei a breve finirà la corsa. Per quanto le guadagni stiano già calando al piccolo, quello che si è visto. L'Antimus, preso dall'entusiasmo per l'Oscar, ha cagato fuori dal vaso, da quello che si può intuire. Sto leggendo solo recensioni negative, solo, quasi solo, non tutte, però il 90% tutte negative. E appunto, per questo sto dicendo. Ha cagato fuori dal vaso. 15 milioni di dollari il film. Che è tanto per un film di L'Antimus. No, ma poi per il film che è andato in sale è tanto, perché alla fine... Sono curioso di vederlo. Quando lo vedrò saprò dire di più. The Watchers. Sappiamo che Shalaman va abbastanza bene in Italia. Probabilmente molte persone avranno pensato che era lui. Non avranno letto che in realtà era la figlia. Oh, questo. If, ovviamente, fu il film per bambini, su Furiosa, niente, imbarazzante. Ora parliamo di Furiosa. Ci colleghiamo subito proprio. Oggi siamo più veloci, meglio così. E io faccio questa domanda, molto più diretta rispetto a Frank. Ma perché incassano tutti, tranne Furiosa? Perché pure The Fall Guys si è ripreso un pochino. Ha incassato. Garfield è al triplo. Gli horror incassano. Bad Boys, boom. Prima settimana 100 milioni. Ma perché Furiosa non incassa? Io penso di averlo ripetuto molte volte nelle ultime settimane. Ci sono degli elementi molto specifici. Anzi, il motivo principale è uno. Dovrebbe essere un film appartenente alla saga di Man Max. E non c'è Man Max. Cioè, è come se tu andassi a vedere la partita della Juve, ma la Juve non gioca. Non ha senso. E non è una critica al personaggio femminile. Cioè, non è di personale. Perché io, Furiosa, nel film di qualche anno fa, come si chiama, nell'altro film, recentemente a questo, a me era piaciuta quella Furiosa lì. Di chi era l'attrice, in quel caso? Ti ricordi il nome? Al resterò. Al resterò. Ci arresterò. Vabbè, figuriamo. C'era Tom Hardy, come Man Max. A me quella Furiosa era piaciuta. E Man Max ci stava, ed era Tom Hardy. E aveva un bel ruolo. In questo caso hanno semplicemente fatto uno spin-off. Con lo stesso budget del film principale, e si aspettavano di avere lo stesso guadagno. Il secondo problema è un'attrice protagonista totalmente fuori ruolo. Totalmente fuori ruolo, per quanto mi riguarda. E poi, Hemsworth, uno ti vuole bene, ma limitati a fare il Marvel Universe e quel tizio lì che non muore, che recupera i bambini dal continente indiano, li sparano addosso. The Raid, Raid Sons, qualcosa del genere. Quello, quel film... Totalia Raid, lì. Esatto, esatto. Limiti a fare quelle stronzate. Non ti metti a fare i film, i blockbasteroni, a fare il villain. Il villain pagliaccio. È un pagliaccio quel villain. È uno dei peggiori villaini che l'abbia mai visto. Quindi, poi, oh, ci sarà... Io ho visto che comunque si è spaccato il pubblico al riguardo. C'è stato chi ha detto, No, ma che cazzo di film... Allora, se guardi in giro, c'è chi lo critica o chi lo elogia. E puntualmente ci si prende a insulti a vicenda. Quindi, è il classico film che ha creato della divisione. Però i risultati sono abbastanza evidenti. Sta floppando alla grande. Quindi, uno non è che dice, va, allora chi è? Gne, 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 chi ha ragione. No, non vuole fare il bambinotto. Però, il botteghino sta... Ripeto, il botteghino, l'ho detto tante volte, non è specchio della qualità di un film. Però, qualcosa ce lo dice il botteghino. Non è una sciocchezza da non considerare. Se ha una certa importanza, ci sarà un motivo. E se i film ricevano dei sequel, è perché vanno bene al botteghino. Quindi, il botteghino è fondamentale per capire anche la reazione del pubblico. Perché spesso, magari, il pubblico si riversa in massa a vedere film di merda. Lo sappiamo, succede soprattutto su Yoko, con gli horror. Però, capita spesso che i film che hanno dei problemi non vanno a flopare al botteghino. Questo pure capita. Perché? Perché floppa il passaparola. Il passaparola è una cosa fondamentale. Senza contare gli influencer, tra cui ci siamo pure noi. Perché, metti caso, io ne parlo male. E influencer, lo so. Molte persone si affidano... 50 persone che non vanno al cinema, perché io ne parlo male. Il signor Arcade ne parla male. Altri 50 persone che non vanno al cinema. Un altro influencer ne parla male. Altri 50 persone che non vanno al cinema. Questo è il passaparola. Metti 50, 50 e 50, hai già fatto 150 persone con tre influenze, 150 persone che non vanno al cinema. E stiamo parlando di 50 persone. Ma ci sono influenze che fanno milioni di visualizzazioni su YouTube. E quelli influenzano un bel po'. Quindi, il passaparola, dopo aver visto il film, è importante. Se le persone ti dicono che il film non è bello... Ese, ieri sera, una delle amiche di mia moglie hanno chiamato... Mia moglie hanno detto facci sapere com'è il film. E mia moglie probabilmente gli dirà il film è stato bello. Io parlo di Bad Boys. Gli dirà a queste persone no, guardate che il film è stato intrattenente. Queste persone andranno a vedere il film. Il passaparola ha fatto il grosso, in questo caso. E a quanto pare le persone non hanno poi apprezzato così tanto come poteva sembrare. No, perché qua la divisione è netta. Qua dobbiamo deciderci. Cioè, fare un discorso serio, critico, mi verrebbe dire. Eh, ma tu non sei un critico, però io voglio farlo lo stesso. Cioè, chi ama il cinema e chi non ama il cinema. Va bene? Quindi, chi va al cinema spesso, chi guarda spesso, il film che sceglie sulla piattaforma. Io sono movie, quindi scelgo il film, proprio quello degli anni 60, in bianco e nero, eh, del tizio francese di due ore e mezza. E c'è il cinefiletto. C'è chi si interessa di cinema, come me, che guarda un po' tutto. E c'è il pubblico generalista. I soldi si fanno con il pubblico generalista. E a me dispiace dirlo, ma il pubblico generalista deve essere invogliato ad andare. Cioè, io insisto sui budget e sulla durata. E sul film che non è pesante. Ci sono film che io, per esempio, andrò questa domenica, mi fionderò al cinema perché fanno la re-release di Spider-Man Across the Spider-Verse fin dell'anno scorso. Mi lancio, ok? Alle 11 del mattino. Non importa. Bene. Il film dura due ore e mezza. Ma, nella mia concezione, sembra durare 20 minuti. Perché? È un tipo di cinema di altissimo livello fatto in un certo modo. Cinecomic di altissimo livello. Ok? Quindi non è neanche una questione di durata, ma se tu fai film come The Fall Guy che dura due ore ma sembra durarne tre perché è ridondante, si ripete spesso, inutilmente lungo, e Furiosa, se noti, sono gli unici film pesanti fra quelli che hanno incassato. If pure, è un po' pesantino, infatti, incassa meno. gli altri film sono più leggeri, scorrevoli. Quindi vuol dire che il pubblico devi dire al pubblico guarda, è un film simpatico, valla a vedere. Oppure, ci sono certi film che però incassano poco alla Lantimos che ha il pubblico dei cinefiletti. Cioè, la gente che dice ah, questo è Lantimos, allora, provate a vedere perché è importante. È un po' lo stesso discorso che si fa con Scorsese e Scott. Cioè, gli ultimi film hanno incassato 150 milioni e 200 milioni perché sono Scorsese e Scott. Ma ci vanno i cinefiletti o la gente che conosce il cinema, se no, gli altri non ci vanno mica a vedere Killers of The Flower Moon. Ma tu davvero vuoi consigliare a un gruppo di amici? Andate a vedere Killers of The Flower Moon. Ma di che? Cioè, vai a vedere Furiosa, ma io non lo dico manco al mio peggior nemico vai a vedere Furiosa. Cioè, vai a vederti me. Esagerato, poi esagerato. No, io davvero, anzi, al mio peggior nemico sì. Mi dico, guarda, te lo vai a rivedere due volte e ti compri anche il Blu-ray con la versione estesa. Va bene? Tre ore di film, così sei a posto, puoi fare il fighetto sui social. È un po' questo il problema. Poi, ci sono anche quello che ha detto Frank, cioè, Furiosa è un brand che credevano forte, ma non è forte, così forte. Come ho detto prima, in Cinefolli, che è il format di Frank dove ci sono anch'io, Bad Boys in pandemia ha fatto degli ottimi numeri. Ora, ora dico anche quanto, nel 2020 ha fatto degli ottimi numeri. e quindi dopo anche anni vi hanno riproposti. Perché Top Gun Maverick è andato bene quando hanno fatto? Perché era un cult senza tempo, amato da tutti, no? E quindi, ecco, Bad Boys for Life fece in pandemia 426 milioni. Ha doppiato Furiosa in pandemia. Io me lo ricordo, il cinema ce lo scluo io e poche persone. Perché il brand è forte a prescindere, nonostante lo scandalo di Will Smith. E' un po' questo il discorso. Quindi, Miller che dice voglio fare il terzo se si alliegano le stelle. Fai un film un po' più digeribile per le persone senza lungaggini, senza... Anche perché, a me dispiace dirlo, ci ho dedicato tre video sopra, anche a livello tecnico questo Furiosa è inferiore a Mad Max. Lasciamo perdere tutta la narrazione degli attori, ma anche visivamente non è la stessa cosa. Quindi c'è proprio il calo della qualità. Faccio questo esempio con Cine Frank. Cine Frank ha anche Valinor, no? E parla del Signore degli Anelli. E lui fa tutte le cose serie, l'analisi, eccetera. E ha abituato il suo pubblico a fare quel tipo di lavoro. Da un giorno all'altro Frank si mette a a commentare i pettegolezzi oppure parla della vita privata degli attori di The Rings of Power. Il suo pubblico fa ma che cazzo sta facendo Frank? Ma non era quello a cui ci hai abituato. E dicono vabbè che Valinor ma che cazzo sta facendo sul suo canale? Prima faceva le analisi del tre... Adesso parla della vita privata dell'elfo abbronzato. Ma che ci frega a noi con che fidanzato l'elfo abbronzato? C'è capito? No, a me dispiace poi vedere persone che se la prendono a male quando uno dice le cose come stanno e soprattutto persone che interpretano queste critiche come la solita cosa maschilismo patriarcato qui il patriarcato non c'entra un cazzo se tu cambi il focus della saga che apprende il nome da un personaggio specifico ma cosa ti puoi aspettare? quindi nulla abbiamo detto abbastanza penso ok adesso ridiamo un po' con una notizia fantastica che in realtà viene perché c'è la pubblicità del nuovo film dei bad boys dei cattivi ragazzi e essenzialmente Will Smith elogia Muccino in che senso lo andiamo a leggere ha fatto morire da ridere il titolone è chiaro Bad Taste quello posso dire Will Smith sulla ricerca della felicità con Muccino il miglior film che abbia mai fatto questo è un articolo durante la promozione stampa di Bad Boys 4 Ride or Die Will Smith ha partecipato come ospite in un format vabbè non ci interessa e dice spiega alla star che con Muccino si è trovato molto bene e anche parlato di altri film penso che il miglior film in assoluto che io abbia mai fatto sia la ricerca della felicità subito dopo c'è Man in Black il primo e poi il film più divertente è Bad Boys e Aladdin essenzialmente questo e anche gradito sarà per l'Oscar il film su King Richard una famiglia vincente in Italia questa è un po' la notizia che commentiamo molto molto velocemente insomma vai tu Frank ma aspetta ma che è Bad Boy and Aladdin non lo conosco che è sta roba cosa cos'è Bad Boy e Aladdin no Bad Boys e Aladdin sono due film diversi no non c'entra niente c'entra niente ho detto male io allora vabbè vabbè chi va a commentare mucino non voglio dissare il povero mucino non ha fatto niente di male allora io vi ricordo che Will Smith aveva avuto il momento drammoni ti ricordi i sette anime o una cosa del genere io lo vedi quando tenevo tipo 23 24 anni ero giovane dagli un'occhiata perché secondo me io ci rimasi un po' male per quel film ma male nel senso per quello che raccontava lui ha avuto il momento un po' drammone poi si è ripreso e ha tornato a fare un po' le stronzate tipo Alady è una stronzata chiamare parliamoci chiaramente Man in Black nell'ultimo lui non c'era più c'era Hemsworth però Man in Black allora lui con Muccino non è che lui non è che lui ha raggiunto il successo con Muccino lui ha raggiunto il successo con Man in Black e Bad Boys e poi ovviamente lui veniva dalla serie TV che tutti conosciamo il principe di Belè ma il suo successo l'ha raggiunto con Bad Boys e Man in Black soprattutto con Man in Black Bad Boys sia stato parallelo ma quelli sono i successi di Will Smith tutto il resto è fuffa quindi i film con Muccino sono state sono state dei momenti ma non è che la gente si ricorderà di lui per i film su Muccino esattamente come non si ricorderà di Chalamet per i film con Guadagnino cioè voglio dire il povero ovviamente hanno lavorato insieme cioè è ovvio che lui vada a parlarne bene di Muccino però il miglior film che abbia mai girato hai capito vabbè ma di solito sono cose che si dicono ma magari uno dovrebbe poter capire che vuol dire il miglior film che ha girato cioè qual è il maestro di valutazione usato da Will Smith su cosa sei basato per decidere il miglior film sulla qualità del film sulla situazione in cui lui si è trovato a girare perché molto spesso gli attori affermano fanno queste affermazioni per riferendosi all'ambiente allora ma potrebbe essere il migliore ambiente in cui ha lavorato che non è per forza di cose il miglior film che lui ha fatto quindi bisognerebbe capire poi lui in che contesto ha detto queste cose però se io dovessi fare una classifica dei migliori film a cui ha preso parte Will Smith metterei ai primi posti Bad Boys e Manny Black non c'è manco da ragionarci Muccino ha fatto qualcosa alla ricerca della felicità ha fatto un successo soprattutto negli States ma anche in Italia in realtà ma fu un successo molto limitato se tu ne parli oggi non se lo ricorda nessuno di quel film lui l'ha citato chi l'ha visto ma anche tu non l'hai visto? no no io non l'ho visto io Muccino non lo guardo è un fatto personale un fatto personale va bene sono le classiche leccate di culo tra l'altro Muccino sta lavorando sta facendo manco più che sta facendo Muccino? c'è un nuovo film che deve uscire nel 2024 non so bene di che cosa vado io velocemente penso che Will Smith ce l'ha un po' questa Cinefrenk ce l'ha abbandonato ora tornerà eccolo qua ma che è successo Muccino è un effetto Muccino eh sì un po' diciamo drammone ce l'ha Will Smith sta cosa secondo me alla fine sempre un po' sul punto di piangere nel suo film è sempre lì che capito quindi secondo me si è trovato bene la faccio un po' da uomo disperato ha avuto i suoi momenti drammoni eh quindi ci sta poi magari Muccino è stato bravo con lui è simpatico una brava persona gli ha fatto fare un po' quello che voleva perché c'è anche suo figlio nella ricerca della felicità quindi ha recitato con con il figlio Will Smith quindi penso sia per questo poi non è che abbia avuto sta carriera sfolgorante cioè io Will Smith non lo considero un bravo attore uno nel posto giusto al momento giusto è stato un po' fortunato un po' come come si chiama lo fa Axel Foley mamma mia ragà c'è una memoria del merda è tutto peggio di me Eddie Murphy Eddie Murphy come Eddie Murphy sono attori che sono cresciuti fra gli anni 70 80 e erano uno dei pochi esponenti black che piacevano un po' a tutti in questi film action in queste saghe di successo quindi funzionano non sono bravissimi non sono pessimi ma lui non è un grandissimo attore è un bravo attore io continuo un bravo attore niente di più fa il suo poi quando si trova ovviamente ad avere delle riuscire quando riesce a creare la giusta chimica sia col regista che soprattutto con l'attore con l'organista come succede con Brad Boyce allora sembra essere un grandissimo attore è un bravo attore come ce ne sono tanti il perché sta arrivato a quei livelli e da quella fama perché comunque è un bell'uomo a un modo suo il suo fascino è affascinante è perché ha avuto ovviamente un po' di fortuna ma quella ci vuole sempre Arca dai chi è che non ha per raggiungere determinati livelli se non hai un po' di fortuna non c'è no ma c'è il caso c'è il caso più recente di Kylian Murphy che è un bravissimo attore ma fino all'anno scorso era poco conosciuto dal grande pubblico beh infatti Nolan se ci fai caso Nolan mi ricordo lui l'ha detto in un'intervista forse non mi ricordo dove comunque Nolan gli mandò il copione di Oppenheimer scrivendogli su una delle pagine del copione finalmente riesco a farti fare il protagonista perché fino a quel momento lui era riuscito a fare solo il coprotagonista lo ricordiamo anche come spaventa passeri in la trilogia di Batman quindi lui aveva già lavorato con ma se non sbaglio non è l'unico film dove ha lavorato con Nolan forse aveva fatto già qualche altra cosa non mi ricordo però no no ha fatto no allora non mi ricordo no ha fatto il film di guerra Dunkirk lì ci sta mi sa mi sa che ci sta a farci faceva il soldato faceva il soldato se non vorrei c'è in Inception qua me lo dà in Dunkirk c'è e su due e basta cioè lui è stato purtroppo relegato sempre a personaggio secondario che è successo ovviamente anche lui è esploso con i Peaky Blinders dopodiché ha raggiunto e quindi ha ricevuto un po' d'attenzione io faccio notare più che altro una cosa facci caso molti di questi attori che adesso sono sulla cresta dell'onda sono esplosi con delle serie tv Anya Taylor-Joy è esplosa con la serie della regina degli scacchi anche lei e adesso lei è sulla cresta dell'onda Killian Murphy è esploso con Zendaya Zendaya è esplosa con quella stronzata di serie dove è esplosa pure se Denise Wimmy e non solo lei ma proprio le due cose che sono esplose lì è esplosa anche l'attrice Hunter Caccia Hunter quella lì che sta anche nel film dei Anchor Games e c'è anche in Kinds of Kindness l'attrice transessuale che esplosa Hunger something qualcosa mi ricordo il nome e cioè tutti gli attori che sono esplosi con delle serie tv quindi non vanno sotto questo è il motivo per cui un attore non dovrebbe sottovalutare le serie tv anche se vuole fare l'attore di film da autore non sottovalutare le serie tv agli aspiranti attori quello è vero quindi andiamo sulla notizia più succosa che non penso Frank sia interessato che non l'abbia vista ma io consiglio di recuperare Arkane la data ufficiale la stagione 2 tutte le notizie intanto spieghiamo cos'è Arkane è tratto dal videogioco che non ho mai giocato ma non è importante nel senso che questa è una serie anime no scusate animazione europea non è anime perché anime è quella giapponese fatta America o Europa o una cosa del genere e che è una storia cyberpunk fantasy fantascienza cyberpunk che ha sedotto tutti compreso me e Nick DeLarge per farci capire che è proprio fatta benissimo era del 2021 2022 insomma ed è una serie che novembre 2021 ecco e questa tornerà dopo tre anni perché la data di uscita è novembre 2024 di che cosa parla molto brevemente in questo mondo cyberpunk abbiamo queste due sorelle che devono combattere per il dominio territoriale essenzialmente alla ricerca di questi materiali insomma per costruire queste armi super tecnologiche insomma è un action diciamo action puro in questo contesto cyberpunk insomma è stato un grande successo come detto la seconda stagione è stata già confermata poco dopo la prima ma si sono presi tanto tempo quindi torneranno le vecchie storie c'è questo trailer di 30 secondi che fa vedere essenzialmente spoiler 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 che i ruoli sono stati ribaltati in che senso? perché le due sorelle che c'erano due sorelle una più grande e una più piccola vediamo se non me me le ricordo ancora ovviamente no perché questo non è l'articolo che avevo cercato io siamo tornati ecco le braunisse sono V e Jinx ecco se nella prima stagione c'era la sorella maggiore che badava alla vita della della minore qui la minore ha avuto un trattamento alla Joker quindi è un po' impazzita sembrava la buona e cara in realtà è diventata super cattiva quindi in questa seconda si presume che andrà avanti su questa linea con alleanze con i vari villain della stagione anche se come io disse al tempo la cosa bella di Arkane oltre l'animazione la regia quindi il lato estetico straordinario quindi io consiglio di vederla a Frank se ne può può parlare anche su Cinefolli sarebbe ottimo secondo me attirerebbe un sacco di gente non è tanto lunga sta su Netflix la cosa bella di Arkane è che non ci sono buoni né cattivi cioè una storia davvero ambigua sono tutti sporchi brutti e cattivi in un certo senso e vabbè è arrivato ehi Puledri che è Puledri a morte sei arrivato tardi ma forse sei al momento giusto per parlare di Arkane ora andiamo fammi finire la cosa bella di Arkane che ho amato recensione sul canale fatto la recensione con Nick DeLarge proprio in macchina di presenza esatto esatto forse sta sul suo canale non sul mio non mi ricordo ma su quello di entrambi mi fa e che mi piaceva il fatto che i personaggi fossero di una ambiguità spaventosa cosa più unica che è rara in questo mondo di pseudo cinecomic dove c'è il buono e c'è il cattivo stile Marvel stile altri altri prodotti quindi è un grande prodotto che consiglio a tutti recupererò la prima stagione magari per Cinefolli insieme a Cinefranc quindi faremo un po' il cambio questa volta rispetto a The Rings of Power Frank vai prima tu se hai delle buone sensazioni se pensi di recuperarlo o meno se ne hai sentito parlare non lo so ma io non ho capito sta uscendo la seconda stagione quando esce? a novembre 2024 a voglia che la recupero allora certo certo assolutamente sì ecco per cui non ero informato la prima stagione non l'ho vista anche perché come sai io non sono un videogiocatore anche se io ho giocato io in realtà ho giocato quando ero ci ho giocato fino a 5-6 anni fa giocavo pure un bel po' a League of Legends quindi adesso però non lo so non me l'ho attirato in quel momento però poi ho letto le recensioni positive ho sentito anche le tue mi sono interessato però poi ho pensato vabbè appena posso la recupero però me la recupererò quindi sì ti dico già che me la recupero ripeto conosco League of Legends ho giocato fino a qualche anno fa quindi sono curioso adesso di recuperarmela da come ne parli da quello che ho letto in giro sembra una bella serie quindi se ne parleremo è piaciuto a tutti non ce n'è uno che abbia detto no non mi e io dissi alla fine del video con Nick poi faccio andare lui guarda prendetevi tutto il tempo che vi serve per la seconda stagione perché voglio che abbia la qualità della prima cioè non fate le cose di fretta lasciate perché dovete farlo uscire l'anno dopo infatti siamo presi tre anni quindi penso che questo sia positivo che sono tanti comunque tre anni se il brand non fosse forte avrebbe già perso l'appillo invece se tu dici Arcane tutti dicono ah sì Arcane me la ricordo che non è una cosa da poco ciao Nick e dicci un po' cosa pensi di Arcane e della nuova stagione che sta arrivando allora non ci ha parlato vabbè ho adorato Arcane a livello sia di animazione che di storia strano come l'animazione tu dici eh vabbè è prodotto per bambini però in realtà no alla fine credo che le sceneggiature più audaci degli ultimi anni spesso siano trasposte anche con l'animazione effettivamente ma in generale a me è piaciuto sì come hai detto anche tu l'ambiguità di personaggi eh la storia delle due sorelle che potrà essere Dida Scalica mentre invece eh Jinx e Powder sono entrambi dei personaggioni eh e in generale tutta questa atmosfera di tradimenti riguardi pericoli anche corruzione dell'animo di personaggi mi ha sempre affascinato e qui in particolar modo per non parlare di eh miseri di degli Imagine Dragons sparata come intro che è proprio una bomba e già ti mette nel giusto setting per per la visione quindi io sì non vedo davvero l'ora eh di vedere questa seconda stagione che non sono uno molto da serie tv ne vedo davvero poche però questa la vedrò sicuramente ok ok allora Nick che dici un po' o scarico dal cesso vista che abbiamo 5 minuti che siamo stati veloci siamo stati veloci commentiamo un po' gli incassi sai che che Bad Boys è arrivato primo che Furiosa è fuori dalla dalla top 5 buon esordio per The Watchers quindi commentiamo un po' gli incassi della The Watchers quanto ha di budget? fra gli 8 e i 12 ha incassato 12 quindi giusto buono dai simpatico speriamo oddio speriamo a me non è piaciuto però diciamo se il passaparola va bene sicuramente sarà sarà un buon film e non sarà l'ultimo di questa sciavalanina qui Furiosa l'avevamo detto flop catastrofico qua quanto ho capito non arriva nemmeno i 160 nel suo budget di produzione 145 145 al momento è appunto non ho se immaginare quanto gli avrà fatto perdere ecco è già uno forse dei più grandi flop dell'anno rapporto budget incasso e che mi dici Garfield che è al triplo 60 milioni 193 194 a te è piaciuto non mi ricordo no no a me non è piaciuto perché parla di tutto fuorché di Garfield effettivamente c'è tipo una storia innamorosa tra un toro e una mucca che si prende la maggior parte del film però sono felice alla fine era evidente molti dicono eh Garfield floppa ma dove in che universo Garfield che ha 6 milioni nell'arma dei 50 anni facebookari può floppare a qualche parte ma dove ci rendiamo conto e poi Bad Boys io ricordo che il primo il terzo Bad Boys for Life fece un bordello prima della pandemia 400 milioni e c'era la pandemia che bloccava tutto floppò anche e sembra strano però è un po' il pubblico dei Creed magari i tamarroni che stanno arrivando a vedere o i nostalgici degli anni 90 quindi noi lo vedremo questa settimana tra l'altro se ne è parlato bene a una meno su cinema scorsa non sbaglio e no no a me il terzo non aveva fatto schifo se non per il finale un po' così ma era simpatico vediamo un po' ecco poi ci sono c'è il duo di registi che aveva fatto anche beh e ha fatto sto guardando qui Miss Marvel si è il seco è il terzo film dei Bad Boys e dovevano fare pure Bad Girl ma è stato cancellato con loro spiace sono stati molto bravi molto molto bravi per me la regia è una delle cose migliori del film tu l'hai visto questo io l'ho visto ieri sera le sale erano piene io fino ad oggi è la prima volta che ho visto le sale piene prima volta nemmeno con Dune parte 2 in America ovviamente per me è uno dei film più intrattenenti degli ultimi anni assolutamente per me è il miglior film dell'anno non è che abbiamo avuto chissà che sapete che a me Dune non è piaciuto il resto a me non è piaciuto nulla non ho visto nulla di particolare per me è il miglior film dell'anno assolutamente ed è un film intrattenente ed è un film intrattenente quindi questa la dice lunga sulla qualità del cinema contemporaneo attuale quindi a me due action che hanno divertito come un matto sono questi qui sarò sincero però se risulta no 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 per me John Wick a me cortesia no per me con la cazzata di sequenza su quello cazzo di scale che non finiva più andate a cagare voi è quello il bello oh le train ragazzi dai no non si può guardare per favore no e poi ti chiedo in Italia operazione spie de me conso te è primo furiosa quinto kind of kindness second cosa mi dici addirittura kind second io ho visto vabbè in realtà i proprietari del mio cinema di fiducia hanno detto che la metà delle persone che l'hanno visto che per ora sono tipo una ventina se ne sono uscite durante la metà dicendo che è orrendo e li posso capire perché anche a me veniva lo stimolo continuo di uscirne dalla sala per quanto era brutto quel film dalla mia sala sono andate via tre persone dopo la prima storia se ne sono andate no ma perché tu entri e io ho visto anche una signora anziana molto appassionata di cinema ha detto no è il regista di povere creature tu entri col setting ma è il regista di povere creature eh sì povere creature sarete voi che adesso non sapete che vi state per aspettare perché qui io l'ho detto l'ho detto iorgos vedendo che la gente lo sta esaltando da che cosa ha fatto ha uscito il suo organo genitale di fuori e ha detto va bene ora faccio tutto io fai il regista che vorrebbe essere per pochi ma in realtà è più da grande pubblico lui di tanti altri e soprattutto ormai c'è la sua fanbase quindi c'è proprio la gente che si esalta a vedere lui che non lo so uccide animali per dire io e il signor Arca scusa Nick io e il signor Arca ne abbiamo parlato su Cinefolli e sotto il video la clip che ho postato ci hanno fatto una merda eh che poi solo Arca ne ha parlato male sotto la clip del ah non lo so dopo li vado a leggere e commento dai 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 in realtà molte persone mi stanno dando ragione per quanto poi ci sono i classici eh Cinefollini no ma Yorgos tanto ormai l'Antimos se vi piace ne farà uno all'anno perché il topo l'ha preso l'ha segregato ha detto oh voi Yorgos fammi un film all'anno perché dobbiamo andare a Oscar Arca quindi non vi preoccupate ce ne avrete i film dell'Antimos che fa cose strane con Emma Stone che si mette a ballare così a caso non vi preoccupate ce l'avrete e io ve lo dico per me se già a me l'Antimos non poteva non mi spoilerate del film no no non potevo criticarlo ma c'è il meme del ballo dai non l'hai visto narrativamente a me l'Antimos non ha mai detto niente tolto povere creature che è emotivo però perché non ti trasmetto niente il film dovresti essere ma si vede la vagina di pietra no no però c'è una posizione diciamo un po' suina ecco no suina no ci sono 10 secondi di puro oro in tal caso però sai non potendo stoppare è relativo ti rompi il blu ray e poi te lo mi puoi e più vedo non vedo ecco per non parlare di fetisci infiniti l'Antimos che si confermano davvero vabbè perché volevo dire ah sì che film come Furiosa come questo di Lantimos ed altri devono essere giudicati fra un anno o due cioè fra un anno anche perché tutti i cinefiletti adesso dico no ma non hai capito il film poi fra sei mesi quando vedranno che tutti l'hanno schifato diranno sì bello però c'hai capito un po' l'effetto del devo pararmi il culo quindi fra sei mesi ne riparliamo eh ma io sono sicuro che vabbè adesso gli unici pari riusciti di questo film sono quelli Cann e quelli italiani a Cannes è normale che te li gonfiano ci sono gli pseudocritici che si mettono a diciamo a levarlo io sono sicuro e ci metto la mano sul fuoco che quando il film uscirà in America riceverà non dico una stroncatura però uno score molto più basso no non se lo cagherà nessuno ragazzi qua non se lo cagherà nessuno prima della nomination agli Oscar di tutto il fenomeno non arrivano nemmeno a due milioni adesso sta a centocinque è diventato profittevole questo io vi dico che parte a raggio e finisce esatto no non parte proprio non se lo cagherà nessuno sto film non è il tipo di film che qui si guardano a guardare qua non so sono proprio allora la cosa buona è che ha avuto il booster povere gratuito ma io vi dico l'Antimus dopo questo cosa farà potrà ancora fare tutti i film io non riesco a capacitarmi come perché davvero Frank questo è l'Antimus a ruota libera e io sono sì sì ma posso immaginarlo mi sono fatto l'idea ragazzi ma che va a aspettare ha vinto l'Oscar ha vinto l'Oscar cioè che va a aspettare ormai allora Nick tu dici che lui non potrà fare più nulla non sono d'accordo l'Oscar è l'abbonamento è l'abbonamento definitivo adesso l'Antimus potrà fare tutti i film che vuole anche se andrà a flopare perché ha vinto l'Oscar quindi loro sulla copertina potranno sempre la produzione che gli va a produrre il film potrà sempre dire io ho prodotto il film di un premio Oscar di un regista premio Oscar quindi lui ormai si è assicurato tutti i film che vuole no ma io te l'ho detto che secondo me ormai un film all'anno lo farà sempre con la Searchlight questi spremono Wes Anderson spremolo lui stanno cercando la Disney sta cercando i suoi registi autoriali di punta se dall'altra parte la Warner ha Christopher Nolan e quindi l'Antimus ormai io ho detto a chi può fare dopo cosa può andare peggio io l'ho visto questo Kinds of Kindness con due miei amici con i quali ho anche visto Povere Creature e se Povere Creature ti sorprendeva in positivo per tanti versi per delle cosette che aveva questo più fai avanti più davvero ti repelle io una certa mi sono scollegato al film ho detto basta io non ce la faccio più ma rotto davvero così tante le palle che non ce la faccio più a seguire la trama a seguire basta sono sceso dal trenno e che cosa ho ricevuto davvero un niente è una è una sega è una sega artistica di Lantimus fatta solo per lui però evidentemente quindi mi dispiace ma per me questo è davvero il peggiore di Lantimus è il primo che posso definire una vera e propria merda ah cioè io ho detto a Nick per me non è che voglia di andarlo a vedere che ho adesso non avete proprio idea no ma per me il problema è uno è proprio il film ma ha episodi che non funziona cioè tu fai un film così e guardi i vari mediometaggi e dici questo meritava un film più lungo quell'altro meritava di essere un corto quello meritava di essere un corto quindi io faccio fatica a dire se è bello o brutto perché dipende dalla storia che prendi in considerazione perché le storie non sono collegate quindi come dire ti è piaciuto quella storia boh sì forse è girato bene sì ti ha soddisfatto no cioè la risposta è no ma non puoi dire che sia brutto perché non è brutto cioè se hai un minimo di gusto estetico non puoi dire che è brutto ma esteticamente è bellissimo è fatto davvero bene è soddisfacente come esperienza dico proprio a me repelle narrativamente e concettualmente tra l'altro gli hanno sequestrato il grandangolo cioè non ha usato mezzo cioè il povere creato della favorita era strano se vedevi un'inquadratura normale però vabbè dicevo per me vabbè meglio però per caso sarebbe stato ridondante dai a una certa quando tu ti fai tante domande ma alla fine non ricevi nemmeno una risposta io mi sono reso conto ecco quello che è questo kinds of kindness sono tre corti fatti da un damsiano solo che li ha fatti l'antimos la stessa caratura narrativa e io vi dico che per me hanno più coerenza narrativa i tre episodi slegati di la paura fa 90 di simpson qua davvero nemmeno l'intento di metterci tre storie con un kinds of kind tipi di gentilezza qualche modo qualche approccio quindi mi spiace dirlo ma no per me no mi spiace vediamo il prossimo bugoni e niente allora io saluto tutti saluto frank saluto nick e ci voi vedete questo video martedì mattina sparito va bene ciao a tutti ciao a frank vabbè chiudiamo così che è molto figo ciao ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti